Il Consiglio Direttivo della Canottieri Baldeseo si è dimesso ieri dopo i botte risposta che si sono susseguiti sui giornali in questi giorni, a seguito della bocciatura del bilancio preventivo nell'Assemblea del 29 aprile. L'80% dei soci non ci stava ad un aumento di 180 euro delle quote spalmato su tre anni per la riqualificazione energetica degli impianti vetusti, dal costo previsto di circa 220 mila euro. L'Assemblea ha pensato che molto probabilmente la copertura finanziaria proposta non fosse valida, ma ci potessero essere altre proposte, tipo il finanziamento bancario. Io avevo votato per un'altra soluzione che era relativa alla copertura su più anni, visto che l'investimento è comunque pluriennale, anche la copertura doveva essere pluriennale, o comunque avvalersi di una ESCO che gratuitamente o comunque con dei costi relativamente bassi poteva mettere gli impianti e lasciare delle risorse libere, quindi lasciare comunque per il futuro la possibilità di attingere a un finanziamento per il rinnovo degli impianti sportivi. Fonte di discussioni accese era stata anche la questione del disavanzo nel settore nuoto, i cui costi hanno superato i ricavi di circa 100 mila euro nel 2022. Il vicepresidente uscente Marco Montagni ha deciso di lasciare spazio ad un nuovo candidato per il settore. Per il momento sto a guardare nel senso che vedo quali saranno le persone che si ricandideranno e quali programmi avranno per il futuro. Ci sono persone che hanno già delle competenze, che seguono comunque marginalmente il settore in questo periodo. Uno è Lancetti Alberto, col quale se l'ha già cercato di un affiancamento per comunque a fine anno passare le consegne.